Attenzione, il video che state per vedere contiene scene trolling, fail, glitch, bug, investimenti ed epic kick. Dunque è sconsigliata la visione a persone che solitamente camperano o ai minori di 5 anni. Le clip che vedrete sono state svolte da trolli e professionisti, dunque non provateci a casa, anche perché ci rubereste il lavoro. Ricordiamo inoltre di lasciare un bel like se il video è stato di vostro gradimento e di condividerlo con i vostri amici. Buona visione. Allora ragazzi, siamo su corsa. Le tattiche sono attaccare e trollare. Fabri numero? Give Ya plantation Gliatta Animation Doatoreus devi andare a piantare fave nel tuo ус Quinta Sì Is שה Non è perfetto Io e Angelo siamo a campare Oh non ci ha visto Non c'ha visto Campare di livello mille Stai registrando un ferro Sii No Vieni qua vieni qua vieni qui Guarda Come ma visto? Ahh Attenzione non è app Sherpa Io Oh cazzo aiuto! Matti poi ci ha visto e ha detto Only410 Vieni qua professore Nooo Che ingratuita proprio questa Attenzione Fermi 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 raga Fermi 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 Dei te è vero ste? Oh merda Ah dai Non è possibile Noi sempre Oh dietro di testa Grazie Notorio Di che Blacktron sono morti malissimo Eccolo Hai lì ste Ma cazzo hai fatto? Ma tu hai studiato mica parkour all'elementare Ti vedo sulla mappa Angelo ti vedo girare in tutto mondo Oh no Ops No ma la cosa brutta di Butterfield è che quando ti sparano c'è la vista affuscata Cioè praticamente ti entra un muscelino nell'occhio quando ti sparano Ops Chi l'avrà riattivata ancora la MCOM Eh Notorious Ma chi l'ha disinnescata invece? Bastazzo! Chi l'ha riattivata? E una è andata Ehi! Vieni qua! E' qua! Ma Forca Qualt'f Balestra? Balestra? Oddio Ho ucciso con la balestra Attento Morici! Morici Notorious Ci devi morire malissimo proprio inciampando su una buccia di banana e slogandoti la caviglia Ho fatto le finge Oh! Fattemogli l'elicottero! Fattemogli l'elicottero! Ciao belli! Ciao cari! Ciao! Oh! Ma dai! Il palo della luce! Ma dai! La mela di Stefano! Io non ci credo! Distruggo carriammati! Distruggo milioni di persone e poi muore per un palo della luce! Oh! Ho il marcarato uno nel luce! Va bene! Ok! Scusa! No! 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 And you fail! Ma cerca che ha! Aia! No no guarda! Fai retro marcia! Fai retro marcia! Fai retro marcia! Fai retro marcia! Vai vai vai! Fai ancora! Oh! Il figlio! C'è Crociate! C'è Crociate! C'è Crociate che mi ha sparato via col carro armato! Ma tipo... Ho visto uno volare! What? Attenzione! King of Killzone! Piaccia! Ma ha piazzato nessun C4! Ah sì invece! Piazza secondo C4! Piazza al terzo! E fa saltare tutto in aria! Siiii! Ci avevo messo anche io l'MC4! Sarei io poi il nabbo con l'M5K! Io posso! Io posso! Voi ancora non l'avete capito! Io posso più! Già Genia Caroni ha detto che io posso usare... L'MK5! Cucina i tuoi compagni con l'attrezzo riparatore! Solo su due! Ma la griglia! Cucina la piastra con il tuo defibrillatore! Portati! Dietro dietro dietro! Surprise motherfucker! Oh! Crociato! Crociato! Che bello! Oh 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 oh! Uesè! War Chef! Beccati questo! Beccati questo! Bev-bec-bec Guardate questo! Giù! Il metismo perfetto! Un colpo? E more! Vai ste! Ciao Notorious! Notorious, mi spiace ma... Tra me è il croccato! Stiamo facendo la gara di chi ti ammazza il più volte! Oh! Adesso, Ria riavviato di nuovo, perciò... Ridiciamo che è tornato Mattia di nuovo, Ria ria saluta Mattia per l'ennesima volta! Di ancora Ria! Ciao! Ria ria ciao! No! Come fantozzi! Nel video vi metterò sta clip almeno per farla rivedere! Oh una volta! Forca puttana! Capovaro! Posso andare? Vadi contessa, vadi! Capovaro! Riposso andare! Riva di contessa ma più centrale! Capovaro! Ririprovo! Riposso! 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 Devo riuscire a fare anche il con la palestra Oh, 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 l'ho ucciso con la palestra, attenzione No, dai, con lo smav Ah, l'ho ucciso un altro con la mia palestrina Dai, l'ho ucciso anch'io, l'ho ucciso, dai Sì, ma che cazzo stai a fare? Ah, tu e il mio Ah, ma lì, va bella Oh, ma che lag è stato? Hey, what happened? Non lo so, ti vedo tipo che stai pattinando sull'asfalto Sì, io ti giuro, sono entrato attraverso Ah, ma perché sta avvenendo la peggio pioggia qui da me No, ma ce l'hai con ste cazzo di lettere ripetute Ri, ri, peggio pioggia Oh, oh, speed on, l'ho ucciso con la palestra Oh, l'ho ucciso un altro, attenzione, doppio di palestra Attenzione, voglio un premio, voglio un premio Voglio un premio Sì, io ti vedo tipo che stai avvene Chittà, gio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh